Seracusa, truce, omicidio, due badanti, Riccioli condannato all'ergastolo. Emesso il giudizio del gruppo Andrea Mignieco, il quale ha condannato all'ergastolo Giampiero Riccioli, il 51enne, ristoratore seracusano, ritenuto responsabile del duplice omicidio dei badanti casertani, Luigi Cerreto, 23enne e Alessandro Sabatino, di 40 anni. Il giudice ha accolto appieno la richiesta formulata dal procuratore generale Miriam Cantone, e conclusione della requisitoria del processo celebrato con il rito abbreviato, la quale sentenza è stata emessa nel pomeriggio di ieri. Sono state accolte anche le richieste dei legali delle parti civili costituite con il patricinio degli avvocati Daniele Scrofani, Vincenzo Guida, Natalino Giannotti e Ascione per i familiari delle due vittime e i legali in rappresentanza dell'associazione Penelope. La difesa di Riccioli, avvocato Antonio Meduri, che aveva sollecitato una nuova perizia psichiatrica per comprendere se fosse in grado di intendere e di volere al momento in cui si sono consumati i vatti, è stata rigettata. Nell'emore l'avvocato Meduri aveva sollecitato per Riccioli la soluzione per insufficienza di prove. Per il giudice e l'udienza preliminare non ci sono dubbi che sia stato Riccioli a uccidere due badanti scomparsi la mattina del 12 maggio 2014 e i cui resti furono rinvenuti nel cortile della villetta di via San Pio da Petralcina in contrada a Tivoli, alla periferia oveste del capologo dove erano stati visti l'ultima volta dopo aver accudito per diversi giorni il padre di Riccioli.